La stagione venatoria per i 570.000 cacciatori attivi in Italia si apre sempre tra le polemiche e spesso con incidenti. Ma mai come quest'anno gli animalisti si fanno paladini del territorio e della fauna, vittime entrambi dell'emergenza siccità e del numero record di incendi. Per sollecitare un intervento del governo contro gli spari, EMPA, LAV, LIPU con il sostegno della LAC avevano nei giorni scorsi diffidato con un atto legale il ministro dell'ambiente dopo il parere dell'ISPRA, che aveva sollecitato misure straordinarie di forte limitazione della caccia. Parere che, ricordano le associazioni, prevede in sostanza l'estensione del divieto di caccia a tutte le aree colpite da incendi e numerose altre limitazioni e divieti. Ciò nonostante, sottolinea l'EMPA, grazie al silenzio assenso del ministro Galletti riparte il rito di sangue delle doppiette. Secondo i dati delle associazioni animaliste, le catastrofi estive hanno ucciso già più di 50.000 animali di ogni specie. Con la riapertura della caccia, 500.000 animali potranno essere uccisi ogni ora, più di 12 milioni al giorno. Eppure le regioni e il governo, sottolinea Bonelli dei Verdi, avevano in mano gli strumenti per fermare questa carneficina. In un paese dove si ferma tutto, solo la caccia non si ferma mai, ironizza anche Michela Brambilla, presidente nazionale del movimento animalista.